E' giunto il momento di mettere a dimora i pomodori, questi li ho fatti io, dei semi e col tempo l'esperienza mi ha insegnato ad un paio di trucchetti per cercare di dargli subito forza e per cercare di dare salute alla pianta. Ora ve ne parlo dopo la sigla. Eccoci sul canale, questo è il suo pane di terra, questa piantina è bellissima, è sana e bisogna metterla a dimora. Questo è il compost che io utilizzo ormai da un paio di anni per le piantine, non c'è scavo del terreno quindi utilizzo la metodologia no dig senza scavo. Faccio una buca, ecco ora attenzione, se tutti gli altri ortaggi li mettiamo fino all'altezza del colletto, il pomodoro possiamo metterlo leggermente più profondo, un dito non di più. Questo perché il pomodoro ha la particolarità che dal tronco, se coperto dalla terra, fuoriescono le radici, sono radici che nascono dal tronco e danno maggiore forza alla pianta. Ora due scuole di pensiero, c'è chi come me accosta subito il terreno al momento del trapianto per quel centimetro in più, come vi ho detto poc'anzi, e c'è chi lo fa in un secondo momento quando fa il primo rincalzo dei pomodori. Van bene entrambe le cose? Il rincalzo lo faccio pure io, eppure io accosto terra, a quel punto la pianta è un pochino più alta, un pochino più cresciuta, metto altre due dita di terra e la pianta continua a creare radichette dal tronco, quindi ha più possibilità di prendere le sostanze nutritive dal terreno. Spero che si veda. Vedete quella radichetta piccolina bianca? Questo pomodoro qui l'ho trapiantato quattro giorni fa. Guardate cosa è successo. Ho spostato un po' la terra, bene non gli fa, però vedete quella peluria? Cerco di spostarmi, purtroppo poca luce. Ecco quella peluria lì è una radichetta, quindi voi immaginate coprire il pomodoro per un centimetro all'inizio e poi un paio di centimetri più avanti, che forza può dare in più alla pianta. L'altra cosa che bisogna fare, e questa bisogna farla assolutamente, è togliere tutte le foglie che toccano per terra. Quindi quelle basse vanno tolte tutte, assolutamente. Mi sposto su un'altra pianta, vi faccio vedere. Ecco guardate, questa l'ho appena trapiantata. Vedete, è ancora mogia, la devo legare, devo mettere un altro filo più alto, quindi verrà legata su due punti perché è molto alto. Ce ne sono due, le lascio entrambe, non le volevo separare. Se voi guardate, qui abbiamo delle foglie che toccano per terra. Queste vanno tolte tutte senza pietà. Perché se le lasciamo sono veicoli di malattie fungine. Il terreno è umido, ci sono le spore nel terreno, c'è tutta una microflora che vive nel terreno e non vogliamo che il nostro pomodoro sia mali per colpa di queste spore che dimorano nel terreno. Quindi dobbiamo evitare di far toccare le foglie per terra. Questa pulizia va fatta periodicamente, va fatta sempre. Quando si fa la scacchiatura, la potatura, le gette scellari, si deve guardare anche il tronco se c'è qualcosa che tocca a terra. E poi, come vi dicevo prima, tornando alla rincalzatura, quando è il momento, si avvicina un po' di terra. Due semplici accorgimenti che possono fare la differenza tra avere una pianta sana, bella, robusta, ed una che magari sopravvive. Ecco, questo è il prototipo di pianta di come deve essere. Vedete? Colletto ben coperto, fusto pulito, nulla che tocca per terra. Ora qui manca soltanto la pacciamatura, in questo caso metterò della paglia. Va bene qualunque altra sostanza naturale, sfalci d'erba, fieno, quello che avete, o sintetico, quindi i teli di plastica vanno bene anche quelli, insomma. Poi anche lì scuole di pensiero. Comodità da una parte, gusto estetico dall'altra. Bisogna poi valutare le mie singole esigenze e scegliere la propria strada, insomma. Io quest'anno farò così, metterò la paglia e ho finito. Bene, è un video molto molto semplice, molto veloce, però ci tenevo a dirvi queste due cose perché possono far davvero la differenza. Lasciate un like, iscrivetevi, condividete a qualche vostro amico il video se vi può far piacere. Grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo la settimana prossima.